Lascia like a questo video se ami tua mamma, se non lasci like a questo video non l'ami, quindi lascia like a questo video Veloce, lascia like a questo video e iscriviti al canale con la campanella Se vuoi che ti regalo un account moddato oppure se vuoi che ti moddo il tuo account di GTA 5 Line E commenta più volte nei commenti con il tuo ID e con la tua piattaforma Così ti potrò dare la tua ricompensa E inoltre ogni video 15 persone potranno partecipare alle mie money lobby su PS4, Xbox One e PC Quindi commentate nei commenti con i vostri ID Per partire col video volevo esattamente presentarvi questa pagina di nome EasyCTA.shop Infatti questa pagina ha veramente centinaia di ordini e veramente tantissime recensioni positive Infatti si occupa di esattamente aggiunte di denaro, aggiunte di auto e vestiti moddati all'interno del vostro account di GTA 5 Online Infatti le recovery sono esattamente per tutte le piattaforme PS4, Xbox e PC Per acquistare è veramente molto semplice, basta comunque andare sulla scritta acquista ora Successivamente dovrete esattamente attendere Guardate il caricamento e sceglierete quello di cui avete più bisogno Guardate c'è esattamente PS4, cliccate Scegliete comunque se volete un money boost o un deluxe boost Quindi come vedete eccovi qua Ora scegliete comunque il vostro boost ovviamente Più denaro aggiungerete più la somma che andrete a pagare aumenterà Però devo dire che comunque ragazzi è la pagina con i prezzi più bassi all'interno di Italia Infatti come vedete ragazzi costa veramente veramente pochissimo Aggiungere anche dell'axo all'interno del vostro account Una volta che comunque come vedete sceglierete il vostro ordine Come vedete ci sono centinaia di comunque pacchetti Centinaia di articoli anche dei mod menu Qui potete scegliere il vostro rango che potete inserire al vostro account Come vedete anche gli outfit moddati con le scritte super mod Quindi come vedete in questo modo qua Più comunque come vedete le auto moddate Come vedete ce ne sono veramente veramente tantissime Sono veramente veramente fantastiche E come vedete potete anche acquistare comunque un account come vedete di Rockstar E come vedete una volta che avrete esattamente in questo modo qua Aggiunto al credito il vostro prodotto Andate nel checkout Però prima cliccate qui sopra e inserite esattamente il coupon Xtianox Quindi come vedete in questo modo qua Inserite il coupon Xtianox Come vedete sarà esattamente aggiunto al vostro ordine Quindi avrete uno scritto Benvenuti a tutti in questo nuovo video Qui Xtianox e CTA E oggi siamo qui in questo nuovissimo video Ma come avete letto dal titolo Vi mostrerò come ottenere i primi milioni Gratuitamente e velocemente Grazie comunque al trick che vi mostrerò oggi all'interno di questo video Infatti oggi vi mostrerò un metodo Per comunque guadagnare soldi in solo Senza l'aiuto di nessun vostro amico E senza requisiti Quindi mi raccomando Prima di partire con i video Se siete nuovi all'interno del canale E non l'avete ancora fatto Lasciate un bel like a questo video E iscrivetevi al canale con la campanella attiva su tutte Per non perdervi i contenuti che carico ogni giorno all'interno del mio canale YouTube E inoltre perché ho attivato un contest Dove regalo esattamente 10 account moddati per tutte le piattaforme PS4, Xbox e PC Con all'interno comunque soldi, rango, auto moddate e vestiti moddati Inoltre ragazzi se non l'avete ancora fatto E' molto molto importantissimo Guardate questo video fino alla fine Per entrare all'interno del contest Perché se non guardate questo video Fino alla fine non potrete entrare all'interno di questo contest E non potete in questo caso ottenere esattamente i vostri Il vostro account e comunque i vostri milioni All'interno di questo account Ok? Quindi è davvero davvero molto molto semplice e veloce Dunque ragazzi oggi vi mostrerò esattamente un'attività moddata Infatti ragazzi io direi di comunque mostrarvi esattamente subito il tuo Come vedete esattamente l'attività FK moddata come la volete chiamare in questione Esattamente questa qua Quindi comunque è davvero davvero molto molto semplice Comunque eseguirla Basta comunque entrare all'interno di questa attività Che comunque vi lascerò il link nella descrizione Accessibile per Xbox PS4 e PC Tu vedete il link nella descrizione Una volta aggiunta ai preferiti La avviate tranquillamente e la eseguite Ragazzi vi consiglio di esattamente ragazzi Ok? Molto molto importante Di eseguirla ora ragazzi Perché comunque è un'attività davvero davvero fantastica Credo che comunque sia la migliore attività FK Al momento disponibile Ok? Essendo che comunque è anche davvero davvero rapida da eseguire Infatti come vedete non dovete fare nulla Basta che mettete un elastico Il vostro joystick E la fate girare in automatico Come vedete in questo modo qui Ok? Ve la consiglio ragazzi Perché è davvero una cosa davvero davvero assurda Infatti come vedete Ci metterete davvero pochissimi secondi A terminarla Infatti come vedete Potete ottenere Qui si chiederanno quanti soldi posso ottenere Grazie a questa attività Ogni 20 ondate Otterrai esattamente 60.000 dollari Facendo nulla ok? Basta che lasci il gioco acceso E comunque otterrai i tuoi 60.000 dollari Ogni 20 ondate Quello puoi iniziare all'infinito Per quante volte vuoi Ok? Quindi è davvero davvero una cosa fantastica Ragazzi che consiglio a tutti Di comunque utilizzare Esattamente prima che venga rimosso Comunque ragazzi Per questo video è tutto Ringrazio tutte le persone Per la visione di questo video Mi raccomando Condividete questo video al massimo Anche con i vostri amici Per mostrargli questo metodo Davvero davvero molto molto semplice E veloce All'interno di GT5 Live E ciao ciao